Bene, buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi e devo dire che mi sono dimenticato, me l'ha scritto l'altro giorno un caro amico che mi segue da tempo e dice saluti soltanto gli amici di Facebook, quelli di Instagram che sei in diretta in questo momento e ti dimentichi un altro dei canali sui quali tu sei molto presente, vi ringrazio a tutti quanti voi perché voi del canale di Youtube non riesco a capire per quale motivo al mondo io non li debba semplicemente richiamare, quindi tanti amici che ci seguono su Youtube, sul canale Nicola Porro di Youtube, insomma questa specie di ambiente digitale che verrà attassato dalla web tax della Vestager, comunque per il momento mi dà una grande soddisfazione, devo dire che siete la più grande soddisfazione dopo le tasse invisibili, eccolo qua, tasse invisibili, quindi a voi che mi seguite vi ricordo come sempre voglio fare la Vanna Marchi del mio libro, siccome non me lo recensisce nessuno, praticamente anzi no, ringrazio Michele Brambilla che sul Codiano Nazionale e oggi lo capisco perché c'è un bellissimo pezzo sulla plastic tax del Codiano Nazionale come in realtà quel giornale diretto da Brambilla abbia uno spirito un po' liberale, per esempio Belpietro, te lo vuoi recensire? Belpi, ma mi vuoi recensire il mio libro? Se non lo recensisce la verità chi lo recensisce? Posto che poi dopo la recensione di un giornale vale quello che vale, mentre voi valete centomila foto, voglio vedere queste qua, eccomi qua, ho fatto la foto caro Nicola con le tue tasse invisibili. Va beh, andiamo avanti, Françoise me l'ha mandata che si legge con gli occhiali del giornale, ti ringrazio Françoise, l'ho vista due volte addirittura. Gianni, ciao, Bibiana, buongiorno. Poi su Instagram i nomi sono molto più difficili, Angelone65, Tgiurin, nomi un po' più complicati, però andiamo al punto! Cosa è successo sui giornali? Il governo italiano sta litigando sulla plastica, sì, su una manovra che in realtà cosa fa? Vuole colpire, me e lo leggo sul quotidiano nazionale, tutto il resto sono minchiate, leggete il quotidiano nazionale che fa un pezzo con un fisico che ci spiega, chimico, che mi... palermitano, che ci spiega che cos'è la plastica per l'Italia, che cos'è la plastica in termini di innovazione, pulizia, conservazione dei materiali, volete, anche Battaglia ne scrive oggi sul giornale, volete un cibo perso e disperso o volete un po' di plastica? Perché il cibo disperso è ancora peggio rispetto al danno ambientale che fa la plastica perché si deve produrre, costa l'acqua, deve essere imballato, deve essere trasportato, quello lo preferite? Il presidente della Corepla oggi viene intervistato degli imballaggi, ci spiega la differenza nel trasporto del vetro rispetto alla plastica? Cioè è talmente folle questa cosa che basterebbe però leggere uno dei produttori della plastica, degli imballaggi di plastica, Emiliano, questa cosa la fa il quotidiano nazionale, lasciate perdere tutte le cazzate, gli altri sono persone che prendono stipendio come me e gente che non capisce cosa vuol dire la plastica, questi signori dicono una serie di cose, tra l'altro voi lo sapete che in Italia è vietato, me l'ha spiegato Zoppas che c'è un'industria favolosa, mi ha spiegato che in Italia non si possono produrre plastiche per gli alimenti con una quantità di riciclo superiore al 50%, toc toc, avete sentito bene, ci rompono i coglioni, quello della lega ambiente che dice l'industria è un'ottima occasione per l'industria questa plastic tax perché può convertirsi al green, ma mai lavorato in un'azienda? Sa cosa vuol dire riconvertirsi? Vogliamo fare le cozze pelose come dice Barbara Lezzi a Taranto invece che l'acciaio? Vogliamo riconvertirci al green come se l'industria della plastica italiana non avesse già provato a riconvertirsi al green posto che abbiamo subito una direttiva europea col cavolo che se fosse i tedeschi se fossero stati a fare loro l'avrebbero accettata, la direttiva europea dice che dal 2021 in Italia come in tutta Europa non si potranno più produrre prodotti le forchette, le plastiche monouso. Ragazzi il tema della plastica non è il monouso e che cosa se ne fa? Se io prendo un'automobile green, una Tesla Cornuti, prendo una cazzo di Tesla e la butto sopra uno scoglio in mare, va bene? Faccio una Tesla in mare. Secondo voi quella non inquina il mare? Ecco il tema è come si utilizzano le cose, non come e di che cosa sono fatte. In realtà la cosa più bella di oggi a parte l'intervista fatta a produttori delle plastiche dell'Emilia Romagna che quindi vi fa capire perché oggi Bonaccini intervistato da tutti i giornali, lo intervisterò anche questa sera io a Quarta Repubblica, dica siamo fottuti se questa roba passa perché evidentemente la sua regione è leader europeo nella produzione degli imballaggi di plastica e noi già che ci siamo ci facciamo un culo così sulle poche aziende che ancora rimangono in Italia a farsi il mazzo, non solo ci sono le direttive europee e non difendiamo l'Italia con le direttive europee e per di più ci facciamo male da soli poi dopo questi che vanno a fare? Tutti quanti i presidenti della Lega Ambiente, tutti i dipendenti della Lega Ambiente, i dipendenti della plastica, vanno a fare tutti i consiglieri di Stato, vanno a fare tutti i giudici, i poliziotti, gli amministratori, vanno a fare tutti i burocrati pubblici, quando noi uccidiamo il settore privato perché si deve riconvertire al green come dice questo straordinario ambientalista che con l'idea di non aver mai preso un euro un euro facendosi il culo, non lo conosco magari l'ha fatto, ma il lavoro non è che lo crea Lega Ambiente, il lavoro non lo creano purtroppo i nostri burocrati, il lavoro lo creano aziende come quelle delle plastiche che ci sono in Emilia Romagna, chiaro? Ve l'avete capito? Se no col sussido di disoccupazione non andiamo da nessuna parte, con il reddito di cittadinanza non andiamo da nessuna parte e noi stiamo continuando a dire che vuoi che siano 4-5 centesimi a bottiglia, a parte che sono 100-150 euro all'anno per ogni famiglia, ma comunque Marattin oggi intervistato, il Renziano dice no alla plastic tax e la sugar tax e a quella sulle auto dice che si potrebbe rimandare ad ottobre il cuneo fiscale che lui stesso e il suo partito insomma ha voluto. La cosa però più bella su questa vicenda, ragazzi devo dirvelo, è il fatto quotidiano. Ascoltate un po' l'Avanti di Marco Travaglio, così come l'Avanti difendeva Craxi, questi difendono Conte, questo governo, gli ultimi moicani, solo che lì c'erano persone intelligenti, qui mi sembra che quando vado a leggere questo articolo io dico io non ci posso credere, io non ci posso credere, Matteo te lo leggo, Mauro ve lo leggo, Rosetta, Angelone dovete sentire perché forse non comprate il fatto quotidiano vi giuro oggi prima pagina sul fatto quotidiano il titolo è tutte le balle sulla plastic tax lo giuro anch'io del giornale non avrei, non sarei riuscito a fare una cosa così a favore di Berlusconi quando erano i tempi d'oro, tutte le balle sulla plastic tax. Allora uno dice vado a leggere il pezzo, pagina 3, leggo il pezzo, tutte le balle sulle plastic tax c'è una tabellina, intanto nella tabellina vai a vedere in Europa c'è la plastic tax cinque paesi, Finlandia, Danimarca e mi sembra Norvegia hanno più o meno una tassa sulla plastica, tre paesi che hanno le tassi su tutto, una tassazione del 70%, mi tassano pure i peli del naso, bene, poi gli altri due tra cui la Germania non ha la tassa, perché il primo produttore di plastica poi c'è l'Italia, non ha una tassa la Germania sulla plastica, c'è nella tabella, vai a leggere e c'è l'obbligo del riciclo, perfetto, ma l'obbligo del riciclo è un altro ragionamento, non è una tassa, toc toc, c'è una differenza tra una tassa e un obbligo di un riciclo? Certo può dar fastidio anche l'obbligo del riciclo, ma tra la tassa e l'obbligo del riciclo bisognerebbe spiegare agli amici del fatto quotidiano che c'è un mondo che forse loro non conoscono, all'interno del giornale poi è una roba, una arrampicata sugli specchi, la Francia sono mesi, anni che discute di una tassa incredibile, ce l'ha? No. La Germania vuole l'economia circolare, ce l'ha la tassa sulla plastica? No. Allora noi siamo i fenomeni che uccidiamo la nostra industria non difendendola in Europa e la uccidiamo tassandola. Io dico, ma noi dovremmo fare una tassa sulle droghe? La vera tassa che dovremmo avere in Italia sulle droghe assunte dai nostri politici nell'inventarsi queste tasse. Sembra Riviera, avete presente quella serie televisiva di Sky? Riviera, cavolo, quello, sembrano tutti Cristo, il figlio del, Cristo si chiama, il figlio del banchiere che si faceva come una zucchina. Questi si sono visti troppo, cioè usano droghe, usano sostanze e ogni tanto le sostanze vengono diffuse a alcuni giornalisti che scrivono tutte le balle sulla plastic tax. Non ce n'è una, io vi invito, leggetelo il pezzo, guardatelo su 28 paesi dell'Europa, ce ne sono 4-5 nella tabella europea, tra cui la Finlandia. La Finlandia c'è la tasse sulla plastica, perfetto. Bene, facciamo come la Finlandia, caro Mauro, facciamo come la Finlandia. Beh, favoloso, nel frattempo, mentre ci sono le tasse sulla plastica, il nostro paese, diciamo, più o meno quando piove in autunno, avviene tutti gli anni, fa un casino, succede un casino. Però vi devo dire che in questa nostra litania con l'Italia distrutta dalle piogge, c'è un pezzo sul Corriere della Sera, io l'ho letto sul Corriere della Sera, non un giornale di centrodestra, che dice come Toti, in realtà il governatore della Liguria, ha speso un miliardo per cercare di rattoppare, come va di modo a dire, la Liguria. È un paese incasinato la Liguria, è quella striscia, molte case, molto vicino ai fiumi, è stato stracostruito e mal costruito. Hanno cercato di fare qualche cosa e nel casino autunnale di tutti gli anni, devo dire, sciapo! Una volta un nostro amministratore non è l'unico, perché anche Bonaccini, voglio dire, a me sta simpatico, è dell'altra parte politica quando difende il suo territorio contro la plastic tax. Così dobbiamo dare atto che in questa disastrata Italia, se mette un amministratore decente, magari non la raggi, magari non zingaretti, riesce a trovare un, come possiamo dire, riesce a fare qualcosina. E questo è, diciamo, nel, brava Floria, voglio essere finlandese, furti e video. Questa è una storia del Corriere della Sera, originale del Corriere della Sera, tirata fuori da Ferrarelle. Ferrarella, cosa succedono? L'ATM nel deposito di Milano, cioè sarebbe la loro azienda municipalizzata degli autobus, scopre che gli fottono il gasolio. Allora che cosa fa? D'accordo con i carabinieri, mette delle telecamere, becca otto dipendenti di un subappaltatore e tre dipendenti dell'ATM che si avvicinano a questi, con delle taniche vuote, poi le taniche vengono riempite vicino all'erogatore della benza. E processo, alcuni di loro vengono licenziati, ma il giudice decide, ieri o l'altro ieri, che sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Ma cazzo, ma c'erano le telecamere, sono stati ripresi, avevano le taniche. Non si vedeva il momento esatto in cui dall'erogatore entrava nella tanica, c'era stata una denuncia, c'erano stati dei testimoni oculari, i carabinieri avevano fatto vedere le taniche, che ce fai con una tanica? Avevano visto che erano vicine all'erogatore, ma non hanno visto il passaggio, quindi è un indizio e non una prova. Ecco, questa è la straordinaria Italia garantista, per cui io voglio dire, io che sono garantista, però c'è un limite, perché qui il limite si chiama buonsenso. Scopri che rubano il gasolio, metti le telecamere, individui di undici persone con le telecamere, le licenzi, fa il processo e poi vengono assolti perché non hanno rubato. Quel gasolio lo pagate voi? Quel gasolio lo pagate voi? Rompiamo le balle sull'evasione, vogliamo le manette agli evasori? Io dico, magari invece di occuparci delle manette agli evasori, cerchiamo di occuparci di mettere le manette agli sprecatori, che è una specie di grandissima platea di italiani che con i soldi pubblici fa esattamente quello che vuole. O no, Valeria e Pier Giorgio, giustizia sudamericana. Ma no, la giustizia sudamericana è una giustizia per Giorgio che ti mette in galera senza garanzie. Questa è una giustizia finlandese che non ti mette in galera, è una giustizia norvegese, finlandese, danese, che prende quel pazzo di brevi, che neonazista, quel che cacchio è, e poi si preoccupa se in cella sta bene dopo che ha ucciso 30 persone in un'isoletta, anzi 80 persone. Ultima questione, è che ragazzi, e no, due questioni, c'è l'intervista alla Vestager, che è liberale, danese appunto, che si occupa della concorrenza, ci ha provato Bonanni su Repubblica a fargli delle domande, che ne pensi della fusione Peugeot, Fiat, ma ovviamente dice sono dossier che ancora non ho visto, che ne pensi della roba fincantieri in cui rompono le balle a un'azienda italiana che non riesce a essere difesa in Europa perché vuole comprarsi i cantieri navali francesi e francesi e tedeschi si sono opposti, e la Vestager zitta e muta, cioè non risponde delle cose interessanti, l'unica cosa che dice è che dovranno mettersi d'accordo con i sovranisti. Bonaccini contro la flat tax solo perché non sono riuscito a leggere tutto il pezzo. Buongiorno Franca, buongiorno anche Just the Fate, ma già paghiamo i sacchetti di plastica, dice giustamente su Instagram Just the Fate, certo che già li paghiamo, ma oltre a quello pagheremo, paghiamo i consorsi, paghiamo i sacchetti di plastica, paghiamo tutto, quindi va bene quello che dice la lega ambiente, che volete che sia? si riconvertano al green, al green. Beh, l'ultima cosa che vi segnalo è, ragazzi, mettiamoci d'accordo, non siamo messi così male, perché se io leggo questa storia di McDonald's, voi sapete che io qua ho difeso McDonald's perché mi piacciono i parini di McDonald's, trovo incredibile, diciamo, il politicamente corretto che ce l'ha con McDonald's, però se sono i primi cazzoni loro, viene molto, ma molto complicato per me difenderli. Toc toc, cari McDonald's, sapete che avete fatto? Avete trovato un amministratore delegato che quando è arrivato ha chiuso i conti peggiori della storia di McDonald's, sostanzialmente quasi, non dico fallimento, ma un rosso mostruoso. In quegli anni dopo che ha preso questa azienda che stava andando malissimo, ha raddoppiato, ha aumentato il 96% il valore di borsa del titolo. Si è inventato la tecnologia di McDonald's. Io ci vado da McDonald's, sapete quelle macchine in cui si ordina in maniera tecnologica, poi ha inventato il fatto che possono essere portate a casa dai distributori, dai riders e compagnia cantante. Vi segnalo che Di Maio vuole le chiusure domenicali, si è inventato ieri, ne parleremo dopo. Beh, insomma, McDonald's cosa fa? Un'azienda che, vi dico i numeri, perché ha 20.000 dipendenti, scusatemi, 210.000 dipendenti, scusatemi. McDonald's ha 210.000 dipendenti e ha 21 miliardi di ricavi. Licenzia il suo amministratore delegato, sapete perché? Perché ha una storia con una sua dipendente. Voi direte, una violenza, una segretaria? No, una storia consensuale. Siccome il signor amministratore delegato di McDonald's aveva una storia con una sua dipendente, viene licenziato, il che è perfettamente legale perché il codice edico di McDonald's prevede che uno non possa avere una storia all'interno della sua azienda. Allora, io vi dico, questo è il mondo in cui viviamo? Viviamo in un mondo in cui noi dobbiamo pensare alla plastica, al trattamento degli animali, al trattamento delle foche, al trattamento dei capelli, alle parole giuste da dire, al wording, alle foto, alla correttezza politica. Io questo è un mondo che lo considero assurdo. Assurdo. Licenzi l'amministratore delegato di McDonald's perché nel codice etico è previsto che l'amministratore delegato non possa avere un rapporto con la sua dipendente consensuale. Siamo in un mondo in cui non ci rendiamo conto che siamo pazzi. Vi dirò di più. Io per due settimane, forse mi farà anche bene, qualcuno potrà dire di voi, mi astengo da McDonald's, sciopero da McDonald's in, come possiamo dire, in rispetto di un amministratore delegato che come unica colpa ha amato in maniera consensuale una sua dipendenza. Le tasse invisibili sono questa roba qua. Come scivoliamo nell'ipocrisia? Pagheremo addirittura una tassa se hai un rapporto con la tua dipendente. Divorziato, tre figli, tutto legale, tutto a posto, eccetera. Questo è il sistema, diciamo, di moralità e di etica pubblica che il mondo vuole. Se questo è il panino di McDonald's, temettevelo. Stasera Quarta Repubblica e un abbraccio a tutti quanti voi.